Come ti tratta? Bene, cioè in realtà non mi calcola nemmeno. Stai tranquilla, è impossibile che stia lì a non controllarti. Questa competizione mi ucciderà. Scusa, ma cosa ti aspettavi? Hai scelto uno dei reparti più ambiti in uno degli ospedali più ambiti. A dire il vero io avevo scelto neurochirurgia, ma poi non sono entrata. Forse a competizione era anche peggio. Succederà anche fra di noi? Cominceremo a pestarci i piedi, guardarci male, con l'obiettivo di essere senti qui? Ma no. Noi due ci sposeremo e avremo dieci bambini. Non è importante chi dei due entra. L'importante è che porti lo stipendio a casa. Fine.